Preoccupazione sul Vergante, non solo a Massino Visconti, per la presenza di 17 immigrati nel residence alla Masseria. Tra l'altro questi immigrati hanno scoperto che ci sono più negozi a Nebbiuno, Nebbiuno è molto vicino alla Masseria, quindi frequentano più Nebbiuno che non Massino Visconti. Siete preoccupati? La preoccupazione sorge da questo fatto. Il numero di persone che sono arrivate sul nostro territorio sono di gran lunga superiori al parametri previsti per cui il nostro territorio può accogliere. Anche Anci dice che sono circa 2,5 numero di immigrati ogni 1000 abitanti. Considerando che tra Massino e Nebbiuno non arriviamo ai 3500 abitanti, 17 persone sono effettivamente tante. Tante per due motivi. La nostra comunità non è preparata a questa integrazione. Secondo, io non sono d'accordo sul fatto che in immobili atti ad ospitare una famiglia possono essere stipate 17 persone. Allora io dico perché noi dobbiamo far soggiacere a determinate regole di sicurezza e di igiene pubblica chi fa ristorazione, chi fa attività di albergo e invece queste persone possono essere stipate, non si capisce in qualsiasi numero, in case che sono atte ad accogliere delle famiglie residenziali. Allora a me non va bene la giustificazione che si dica ma l'albergo lo fa per l'incolumità dei suoi ospiti e perché questi non hanno gli stessi diritti degli altri ospiti, sono persone umane. Allora se si parla di integrazione deve essere fatta con i canoni dell'integrazione. La preoccupazione sull'arrivo di altri migranti è stesa non solo a Massino e il vicino Nibiuro ma anche tutto il vergante? Non è che sia una grandissima preoccupazione, non credo che ne arriveranno altri, con 17 credo che già il vergante abbia raggiunto la quota prevista. L'idea, a meno quella mia del comune Pisano, di collaborare con il comune di Massino per gestire queste persone, per evitare che stiano in piazza a far nulla, insomma collaboreremo, faremo una convenzione se è possibile e farli lavorare. almeno li metteremo a frutto nel territorio, visto che non c'è possibilità di mandarli via, ma almeno li faremo lavorare e li teremo impegnati. Per il momento Pisano non ce ne sono? Pisano come comune non ha strutture, non risulta che nessun privato abbia preso contatti con cooperativa, quindi per il momento nessun migrante.